mi chiamo bianca ciao emily il tempo oggi è bellissimo facciamo due passi andiamo al parco giochi il biberon certo è caldo andiamo più veloce ma chi ha lasciato tutti questi sassi per la strada si è staccata una ruota il nostro passeggino si è rotto non posso aggiustarla chi è che piange mi rovini l'appetito serve aiuto si è rotto il passeggino una fata un nuovo passeggino ma è bellissimo grazie bianca non c'è di che guarda cosa ha fatto apparire posso fare tutte le magie che volete tutte quelle che vogliamo emily vuoi un vestito come quello della fata bianca bianca ha le ali e anche emily bianca ha la tiara e emily invece ha una bella fascetta in testa grazie venite con me possiamo bere un frullato sì ma ma come si fa è semplice questo è un frullatore la fata ci sta mettendo dentro la frutta super salutare fragola limone limone ananas 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 adesso dobbiamo premere l'interruttore ecco ecco che cannuccia volete emily che cannuccia vuoi vediamo quella rossa o quella azzurra quella rossa deve essere buonissimo che ne dite volete fare un tuffo in piscina sì ma non abbiamo il costume farò una magia ragazzi che sta avvenendo verso di noi ehi ciao sirenette insegneranno a emily a nuotare scendiamo dallo scivolo bianca prendi emily una bacchetta magica posso fare anch'io le magie voglio una piscina grande questa sì che è una piscina e ora un fenicottero una paperella e un dinosauro e tu cosa ne dici? ti piace fare il bagno con i giocattoli? torna presto a trovarci sul nostro canale diventeremo fate insieme ciao ciao ciao